I protagonisti della politica italiana saranno a Rimini dal 4 al 6 ottobre ospiti della festa nazionale DEMS, tre giorni di incontri, dibattiti e approfondimenti tra il cinema fulgore e il teatro Galli per un confronto con la cittadinanza sui principali temi di attualità e sul ruolo del Partito Democratico all'interno dello scenario attuale futuro. Sì, torna a Rimini la terza festa nazionale di DEMS, il luogo che ha ospitato DEMS dalla sua nascita e che quest'anno vedrà tanti ospiti della politica, tanti protagonisti della politica nazionale. I ministri di questo nuovo governo, a partire da Dario Franceschini, ma tanti altri, il viceministro dell'economia Misiani, il ministro della salute Roberto Speranza e tantissimi altri ospiti, fino ai rappresentanti del nostro Parlamento europeo. Sarà con noi anche Davide Sassoli, il presidente del Parlamento europeo e tanti europarlamentari. Lo scorso anno abbiamo ospitato Nicola Zingaretti, è stato l'avvio della sua campagna elettorale che a marzo poi lo ha visto eletto segretario nazionale del Partito Democratico. Quest'anno sarà con noi Andrea Orlando, il vice segretario nazionale e anche il padrino di DEMS, colui che ha voluto fortemente questa associazione, che è un'associazione che lavora per contribuire a realizzare una sinistra moderna, riformista, anche in ambito europeo. E ancora una volta DEMS sarà l'intreccio di culture, di protagonismi, fatti da politici e dalla politica, ma anche da tante associazioni. Infatti ci sarà molta cultura, arte e saranno tanti gli ospiti che avremo modo di vedere qui in questi tre giorni. Una festa che si svilupperà tra il Teatro Fulgor, Cinema Teatro Fulgor e il Teatro Galli. Avremo un gran finale la domenica mattina del 6 ottobre al Teatro Galli. Quindi un'occasione per incontrare tanti cittadini e aspettiamo che siano appunto in tanti a farci visita.